F3J è la sigla che identifica la categoria agonistica dedicata al volo in termica radio guidato. Il principio è molto semplice. Bisogna volare il più a lungo possibile durante il tempo operativo di gara che è di 10 minuti senza oltrepassarlo. Il volo si conclude poi con un atterraggio di precisione su un centro posto a terra. La gara è un confronto diretto uomo contro uomo. Si vuole infatti in contemporanea in gruppi che possono andare da 5 a 10-12 piloti e si vince cercando di superare l'avversario nello stesso momento e nelle stesse condizioni. I modali che si utilizzano sono agli anti di un'apertura all'aria che varia da 3,30 m a 3,70 m. Sono costruiti in stampo, materiali compositi e generalmente presentano i piani di coda nella configurazione AB. Vediamo adesso una carrellata di alcuni dei modelli più diffusi sui campi di gara. il Pike Perfect lo Sharon lo Shadow lo Stork 2 lo Stork 2 lo Stork 2 il Supra Per riuscire ad ottenere il massimo delle prestazioni da questi modelli è molto importante la messa a punto il centraggio e l'escursione dei comandi indispensabili i freni per facilitare l'atterraggio di precisione. La messa in quota del modello nelle gare nazionali si effettua mediante l'utilizzo di un verricello elettrico il cavo di traino che passa attraverso una puleggia di rinvio situata a 150 m è di nylon del diametro di 1,1-1,2 mm vediamo seguire un paio di fasi di lancio con il verricello si carica il cavo salita sotto traino al culmine della salita alla fiondata un rapido picchiacabra che permette la fuoriuscita dal gancio ed il guadagno di ulteriore quota grazie all'energia accumulata adesso vediamo una breve sequenza filmata da bordo modello la partenza il momento della fiondata il livellamento del modello al culmine della salita molto importante per il punteggio finale del volo è l'atterraggio che deve essere fatto entro lo scadere del tempo operativo il più vicino possibile ad un centro il massimo del punteggio 100 punti viene ottenuto atterrando entro un metro dal centro il pilota deve pertanto impostare un corretto circuito di atterraggio regolando la frenata in modo da essere a terra nel momento giusto e nel punto giusto seguiamo ora un atterraggio filmato da bordo modello la F3J è la categoria del volo silenzioso che raggruppa il maggior numero di praticanti circa 400 sono i piloti che si affrontano annualmente in una decina di gare del circuito Eurotour e mediamente 35 e 40 quelle che si danno battaglia nelle gare di campionato italiano risulta pertanto una delle categorie più numerose a livello nazionale nelle gare internazionali la messa in quota del modello avviene con traino a mano effettuato da due persone qui vediamo la partenza di un round vista dal lato trainatori ed ora un decollo visto dalla base di partenza vediamo due trainatori all'opera sono una decina i metri di corsa necessari per portare il modello ad una quota di circa 180 metri seguiamo ora la sintesi di un volo effettuato nell'ultimo campionato europeo svolto in Slovacchia il pilota è lo junior Giovanni Gallizia marco salvini lancia il modello e toma struffo e ha detto i cronometri in 5 secondi in 5 secondi 3 2 1 dopo lo sgancio il pilota prosegue il volo seguendo le indicazioni degli aiutanti alla fine alla fine dei 10 minuti si rientra per l'atterraggio 9 8 7 6 5 3 3 2 1 go la F3J è una delle poche specialità nell'ambito dell'aeromodellismo agonistico in cui esiste sia una categoria senior che una categoria junior il primo campionato mondiale di categoria si è svolto in inghilterra nel 1998 l'italia è sempre stata presente ai campionati continentali e mondiali con una squadra senior e dal 2003 anche con una squadra junior i prossimi campionati mondiali si svolgeranno in Turchia la prima settimana del mese di luglio in questi ultimi anni la nazionale italiana F3J ha ottenuto dei buoni successi secondi a squadre junior al mondiale 2006 secondi a squadre junior al campionato europeo 2007 terzi a squadre senior al campionato europeo 2007 terzo posto individuale senior per Marco Salvini al campionato europeo 2007 il 26-27 aprile l'aeroclub di Lodi organizza Sant'Angelo Lodigiano una gara internazionale F3J del circuito Eurotour dove è prevista la partecipazione di un centinaio di concorrenti provenienti da 10 diversi paesi d'Europa per maggiori informazioni per maggiori informazioni potete consultare il sito www.f3j.it Grazie a tutti